Diverse irregolarità sono state riscontrate dalla personale della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dai tecnici del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta durante un sovraluogo in una fornace di latrizi nel territorio gelese. La complessa e delicata attività di indagine è scattata su delega della Procura della Repubblica. Le attività di polizia giudiziaria in campo ambientale hanno portato al deferimento alla locale procura dei proprietari delle aree e del titolare dell'obbificio per i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ed inquinamento ambientale a seguito della compromissione del suolo ricadente tra l'altro tra le aree inquadrate all'interno dei siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale istituite da precise direttive comunitarie per la conservazione della biodiversità. I militari hanno sequestrato due aree per un'estensione totale di circa 8.000 metri quadri in cui venivano stoccati rifiuti di vario genere tra cui residui di lavorazione, fusti contenenti idrocarburi, materiale metallico e plastico. Il titolare dello stabilimento, si tratta di una donna, è stato deferito anche per il mantenimento di un deposito abusivo interrato di prodotto infiammabile posto sotto sequestro. Le indagini febbrili continuano al fine di determinare le caratteristiche e la provenienza degli oli combustibili prelevati durante le operazioni di accertamento.